Ciao ragazzi sono Natalie e oggi vi faccio vedere nuova collezione della Femme Professional che si chiama Lovely Flakes Allora quest'anno hanno deciso di unire la collezione invernale e collezione natalizia Guardate che meraviglia, sapete benissimo che io adoro i glitter e qua ce ne sono tre Non vedo l'ora di farveli vedere, primo colore, lo adoro E copre in una sola passata con una passata media Altrimenti potete stendere due passate sottili e guardate che meraviglia Si abbina benissimo al prossimo colore H291 E' un lilla viola, una via di mezzo, molto coprente e come vedete copre solo in una passata E come tutti i colori della Femme Professional sono autolivellanti Il prossimo colore è un azzurro molto chiaro Io vi consiglio o utilizzare una base bianca e metterlo in una passata sottile Oppure fare due passate sottili, guardate che carino e delicato E a questo colore si abbinano benissimo questi glitter, guardate Sono molto molto fini e coprono in una sola passata E per i glitter non è una cosa da poco, sappiamo benissimo Questi le adoro, questo è proprio Natale Come vedete argento e rosso, sono fantastici Anche qui ho una passata media oppure due sottili Guardate come brilla, che meraviglia Poi abbiamo H295 Non è un rosso classico, nostro mitico H178 Che vi consiglio per Natale Ma un pochino più intenso Guardate qua vedete tutti i sei colori E mi piacciono tutti i sei Non ce n'è uno che non è bello Io ovviamente mi sono sbizzarrita E ho preparato una nail art molto semplice Che è uscito proprio oggi Ovviamente sotto vi lascerò il link di questo tutorial Io qui ho utilizzato paint gel bianco di Moira Ma se vi viene più comodo potete utilizzare anche spider gel Spider gel di colore bianco Così magari sarete più veloci e precisi Non c'è bisogno di dire che sotto la descrizione a questo video Vi lascerò tutti i contatti di Alice Cosmetics Che è ufficiale rivenditore di La Fem Professional Acquistando intera collezione Vi ricordo che pagherete solo 5 colori E uno sarà in omaggio Qua vedete anche il mio codice sconto In alto su a sinistra Quindi ricapitolando Sotto troverete il link di Alice Cosmetics Che è il sito ufficiale di rivendita di Moira E di La Fem Professional Troverete il link di questo piccolo tutorial Link del gruppo su Facebook Di La Fem Professional Dove potete magari ricevere assistenze E più che altro Che chiarare con altre ragazze E ovviamente tutti i miei social Iscrivetevi a Instagram Perché la posto tantissimi tutorial Grazie a tutti Grazie a tutti